ciao a tutti ragazzi mi raccomando per chi volesse sostenere il canale degli isolerati lo può fare solo ed esclusivamente gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina un semplice click è molto più importante di quello che potreste mai pensare click e iscrizione attenzione perché eh parlando anche un po' della nazionale perché me l'avete chiesto si parla anche di calcio non ci inventiamo notizie false come da altre parti caso plus valenze i legali della Codacons revocare lo scudetto duemila diciannove della Juve faccio un esempio qui si potrebbe fare un esposto non ci sono processi in atto non c'è nulla c'è la Codacons che è dietro a far togliere lo scudetto alla Juve ma perché lo vogliono dare a Napoli qui potremmo non potremmo qui un interista la mattina si sveglia voglio fare un esposto perché secondo me i duemila lo scudetto del duemila diciannove della Juve è da revocare perché è da revocare ti chiedono io i PM perché mi dici di revocarlo perché come dice la la Codacons i bianconeri hanno alterato la regolarità del campionato come confermato dal collegio di garanzia del CONI quindi hanno certificato che il campionato è stato alterato quindi non vedo motivo per cui non togliere alla Juventus lo scudetto del duemila diciannove spero gli venga tolto e che venga dato a chi se lo meritava in quel periodo quindi togliete lo scudetto del duemila diciannove ai signori della Juventus perché è stato certificato eh un'alterazione di di tutto perché non si meritava lo scudetto la Juventus non se lo meritava non lo poteva vincere questo per ripeto questo potrebbe essere un esempio per un esposto perché ora molti di voi hanno voglia di fare gli esposti di spendere di affidarsi a dei legali fate un esposto sullo scudetto duemila diciannove alla Juventus se lo volete fare eh perché poi comunque è che fai l'esposto butti la palla lì o usi il condizionale come hanno fatto altri sembrerebbe parrebbe cioè chiedi delucidazioni ma se incominci a fare accuse è un boomerami che ti torna qua dietro la nazionale Spalletti Luciano molti di voi lo sanno io ho avuto il piacere di conoscerlo sono stato anche nella sua tenuta a Montespertoli dove tra l'altro eh lo dico per qualcuno se è interessato soprattutto su youtube che dice falsità farà anche il vino buono Spalletti mi ricordo che si chiama o il vino comunque a tutto campo una cosa del genere per quello che riguarda la nazionale per come la vedo io saluto anche Michele ne parlavo anche prima con lui eh un allenatore della nazionale ha due scelte o punta su un blocco di giocatori di una squadra per esempio quando c'era il blocco Juve c'è stato negli anni il blocco Milan oggi c'è il blocco Inter ma se te punti sul blocco Inter e non li fai giocare come giocano nel loro club se te non armonizzi i movimenti nella squadra come sono armonizzati nel loro club eh caro Luciano è un casino perché ho punti su un blocco di giocatori giocando alla stessa maniera in cui giocano nel club oppure punti su due fuori classe fai una squadra all stars ma all stars non esistono nel calcio italiano ci sono i Baggio bisogna dirlo anche a discapito di Spalletti non ci sono i Baggio non ci sono i Del Piero non ci sono i Zola non ci sono più questi giocatori qui a discolpa scusa gli Spalletti volevo dire Frattesi facciamo un esempio su Frattesi Frattesi molto interisti dovrebbe giocare di più sì ma Izaghi lo vede come vice come vice Barella perché non è un vice Michitalian vice Michitalian sarà Zelischi quest'anno Frattesi è un giocatore molto particolare è bravissimo nel pressing alto ma nella fase di inseguimento dell'avversario quando deve scappare all'indietro non ci mette le mani Frattesi fortissimo dal centrocampo in su quindi aggredisce lui lui aggredisce sempre frontalmente capito e non ha la rincorsa all'indietro cioè quella è una cosa non ha la doppia fase praticamente per farla breve Frattesi quindi mentre Michitalian per esempio in questa cosa qui è un top Michitalian pur avendo 35 anni gestisce la la doppia fase soprattutto nel 352 in una maniera spettacolare quindi eh tra l'altro la rosa della nazionale è composta da tantissimi giocatori che eh gioca a tre mi viene in mente i pugile per esempio i pugile della Juve a me si chiama quello lì che ha fatto venti rigori nel giorno d'andata non gliel'hanno fischiato nemmeno uno Gatti Gatti gioca a tre Mancini gioca a tre Bastoni occhio a quattro perché se lo esponi a campo aperto è un problema per Bastoni mentre a tre mentre a tre è un mostro capito che ti voglio dire quindi scusate una chiamata di lavoro quindi devi stare attento ho capito il blocco inter blocco inter ma se poi li fai giocare in maniera totalmente diversa in maniera che che loro a loro non tornino i movimenti non tornano gli inserimenti non torna non torna la fase difensiva perché questo modulo non predilice le qualità dei giocatori dell'Inter guardate di Marco di Marco a tre è un animale perché comunque ha pochissima fase difensiva a quattro dura un po' di fatica per quello riguardo a Luciano non è tutta colpa di Luciano su di lui c'era di una cosa a livello tattico è rimasto un po' fermo dieci anni fa le ultime innovazioni che portò che ha portato Spalletti nel calcio italiano le ha portate dieci anni fa e cioè lui per giocare bene per giocare decentemente ha bisogno o di un trequartista che fa gli strappi e come gioca Luciano oppure ha bisogno di un vertice basso che riesca a gestirgli la doppia fase faccio un esempio Pizarro alla Roma che aveva che aveva la doppia fase la in Golan che fa la doppia fase strappi e fase difensiva lui ha bisogno di questi giocatori qui tra l'altro Pizarro alla Roma aveva anche a fianco De Rossi e Dacurto non due maniscalchi come dice Michele ma due giocatori facevano anche gioco allora ecco lui ha bisogno di questi giocatori qui perché vedo che ancora il credo tattico è rimasto lo stesso anche a livello e poi aveva l'Inter qualche anno fa eh aveva per rotta per esempio alla Roma no che gli faceva tutti quegli insedimenti vi ricordate quindi ha bisogno di esterni poi Luciano e Saltino l'uomo e che si accenti un occhiettino poi importa o che cross cioè ha bisogno di giocatori particolari per come vuole giocare lui cioè praticamente la tattica di Luciano dipende tantissimo dalla bravura di determinati giocatori capito se non ha determinati giocatori lui dura fatica ripeto non ritorno al blocco giocatori inter c'hai blocco inter credi sui giocatori blocco inter ma falli giocare ma giocano all'Inter a Roma a Roma faceva bene ma sulle fasce aveva salà perotti cioè qui non ce l'ha questi giocatori ragazzi parliamoci chiaro poi sicuramente anche lui può far meglio ma non diamo tutta la colpa da una parte e salvaguardiamo l'altra cioè bisogna dire le cose come come le stanno cioè se non chieda in certi giocatori Luciano va in crisi come un po' tutti gli allenatori ma mentre certi allenatori riescono a sopperire con il lavoro tattico tipo Inzaghi perché prendiamo Inzaghi che è migliorato tantissimo negli ultimi due anni ci sono da quanti giocatori di inventiva all'Inter a parte Turam un po' Lautaro quanti giocatori di inventiva un po' Ciananoglu quanti giocatori ma dove sono i trequartisti Baggio che ne so uno Snyder non ce l'ha all'Inter un giocatore un di bala però Inzaghi è riuscito a sopperire il lavoro tattico no magari a determinate mancanze Spalletti è un allenatore che ha bisogno di determinati giocatori poi è anche vero che a me me lo dicevano quando giocavo te sei la scorciatoia dell'allenatore perché io quando ero piccino e poi mi sono sciupato ero ragazzetto perché poi i giocatori forti quelli bravi i numeri dieci vecchi numero dieci io mi chiamo giuse dieci perché giocavo ogni dieci e sono la scorciatoia degli allenatori soprattutto non parlo di Spalletti in questo caso ma soprattutto degli allenatori che a livello tattico durano un po' di fatica che te dai la palla a quelli più forti e ci pensa a loro quindi spesso gli giocatori forti sono una scorciatoia per gli allenatori non tanto preparati a livello tattico però ho visto l'Italia durare tantissima fatica ieri però io io penso che con la Croazia faremo meglio però ragazzi calcio non è solo corso e fisicità il calcio è tecnica e noi purtroppo in questa squadra di tecnica ce n'abbiamo molto ma molto poca ciao inter Grazie mille! Grazie mille!